Zona Lega Pro, oggi parleremo del forgiacalcio, il forgiacalcio è una squadra abbastanza competitiva, l'anno scorso ha quasi sfiorato la promozione con mister De Zenni che quest'anno è promosso perché è stato ingaggiato dal Palermo con Alterne Vicente, ma vediamo nello specifico con questa nuova rubrica di Zona Lega Pro, allora vediamo i giocatori a disposizione del mister Giovanni Stroppa, ricordiamo la piccola vicissitudine, a inizio campionato la squadra era guidata da Zerpi, poi c'è stata un'incomprensione societaria per via della cessione dell'attaccante Gnammiello che a detta di voce di popolo non è stato ben sostituito e quindi da qui è Bari divergente con il direttore sportivo Giuseppe Di Bari, queste divergenti hanno portato la società a tutelare le decisioni dirigenziali per cui c'è stata rottura, rottura che ha portato all'ingaggio di Giovanni Stroppa, ha detto Giovannino che ha giocato popolo nel Foggio ai tempi di Zedek Zeman, vediamo per quanto riguarda i giocatori, nella rosa annovera Marti Rivelora, un calciatore spagnolo centrocampista che è praticamente nato a Batelar e praticamente è un ottimo centrocampista, altri giocatori da segnalare Alberto Gerbo, anche il suo centrocampista, poi passiamo Enrico Guana, portiere in prestito dal Bari, quindi con un profilo in serie B, in attacco c'è la figura di Stefano Padovan, attaccante in prestito dalla Juventus, tra le liste dei centrocampisti segnaliamo Vincenzo Sarno, il napoletano di Secondiano, ha avuto vicende alterne per via anche di un infortuno, soltanto poi grazie a mister De Zebi l'anno scorso ha dato il meglio di sé e quest'anno figura ancora nelle file del Foggia Calcio. Altri giocatori, Alan Eperur, giocatore brasiliano prelevato dalla Salernitana, poi c'è altro difensore ex-lecce Angelo, Angelo Mariano De Almeida, un giocatore, un difensore brasiliano, poi c'è Maurizio Lanzaro, un difensore proveniente dal Melfi, altro centrocampista segnalale, Davide Agazzi in prestito dall'Atlanta, poi abbiamo Fabio Tito, Fabio Tito è un giocatore che rinforza la difesa del Foggia e praticamente arriva dalla Casertana, ricordiamo che Fabio Tito è di Castellammare di Stabbia e la Juve Stabbia quest'anno figura tra le squadre che sono diciamo che cercano di arrivare in Serie B. Altri giocatori da ricordare per quanto riguarda il Foggia abbiamo anche come attaccante Cosimo Chiricò, un attaccante un peperino niente male e Fabio Mazzeo, Mazzeo proveniente per ultima ora dal Benevento. Per quanto riguarda quindi il Zona Allegra Pro questa settimana abbiamo parlato del Foggia Calcio per Zona Allegra Pro da Federico Mancini è tutto, grazie.